Un incontro di merito non solo per sviluppare con il più grande tour operator cinese che è dalla presenza dell'ENIT, del nostro ente nazionale del turismo, per incrementare i flussi turistici cinesi, in generale asiatici, di fare in modo da non essere bypassati dai blocchi che ci sono anche in Europa, in particolare in Germania e in Svizzera, sugli afflussi e sugli voli, e di prevedere un volo diretto. Ci sono stati già degli impegni che sono stati presi dall'inizio del 2013, quindi si prevederà un volo diretto Pechino-Napoli, alcuni giorni alla settimana, ci sarà un passaggio da Zurigo, quindi il volo che farebbe Scalo a Zurigo verrebbe a Napoli e poi tentare di avere proprio dal 2013 un vero e proprio volo diretto. Però ci sono tutta una serie di azioni già messe in campo, tutte positive, che riguardano l'intera regione. E' chiaro che qui non dobbiamo descrivere le nostre bellezze, quindi una grande attrazione per un mercato nuovo, il mercato asiatico, che è fatto da tantissime persone e cittadini che si vogliono muovere e guardare l'Europa e devono guardare l'Italia, il mezzogiorno, Napoli per tante ragioni. Poi abbiamo spiegato che la nostra stagione è una stagione molto lunga, quindi qui devono essere abituati a prevedere un tempo molto più lungo di presenza.